Paradiso, canto terzo. Quali per vetri trasparenti e tersi, ovver per acque nitide e tranquille, non si profonde che i fondi si è impersi, tornano di nostri visi le postille, debili sì che perla in bianca fronte non vi è men forte alle nostre pupille. Parafrasi. Come attraverso i vetri trasparenti e lucidi, o attraverso acque nitide e calme, non così profonde da non vedere i fondali, i lineamenti dei nostri volti vengono riflessi così debolmente, in modo simile ad una perla che su una fronte bianca non emerge in modo evidente ai nostri occhi. Commento. Dante si trova nel primo cielo, il cielo della luna, dove si trovano gli spiriti di coloro che in vita non hanno portato a termine i voti. Il poeta li descrive attraverso una serie di similitudini, come delle figure diafane, dai contorni indefiniti, che sembrano riflessi in dei vetri o nell'acqua. Le similitudini riguardano la vita quotidiana e danno informazioni sulle mode del tempo, in particolare sulla perla che le donne portavano in fronte, la quale doveva essere più bianca possibile. Successivamente Dante si gira indietro, come per vedere le anime vere e proprie e non solo il loro riflesso. In questo gli commette un errore opposto a quello compiuto da Narciso, in cui mito viene raccontato nelle Metamorfosi di Ovidio, uno dei modelli a cui Dante si ispira. Narciso era un giovane bellissimo, amato da molte ninfe, che però non ricambierà mai. Per questo un giorno verrà punito da Nemesi e, passeggiando nel bosco, si avvicinò ad un laghetto per bere, ma nell'acqua osservò un giovane bellissimo, del quale subito si innamorò. Questo giovane era in realtà la sua immagine riflessa, ma inizialmente non se ne rese conto e continuò ad osservarlo e a provare ad avvicinarsi a questo giovane. Narciso si renderà conto di stare ammirando la propria immagine riflessa soltanto in seguito, e a quel punto si lascerà morire e cercherà di tornare ad osservare la sua immagine riflessa nell'Ostige, uno dei fiumi infernali. Dante, al contrario di Narciso, cerca dietro di sé le figure da cui deriva quel riflesso, che lui rede di vedere. Nella società di oggi si compie il gesto opposto a quello di Dante. Infatti, quando si vede qualcuno, si tende a cercare subito il suo profilo sui social, e a dare più importanza al modo in cui appare sui social che al modo in cui si presenta nella vita reale. Attraverso i social si diffondono spesso modelli, ai quali si cerca, spesso anche inconsapevolmente, di assomigliare, sia per quanto riguarda l'aspetto esteriore che per quanto riguarda i pensieri. La diffusione dei social ha sicuramente aiutato a mantenere relazioni e amicizie, ma ha anche portato a confondere la vita reale con un'immagine riflessa e spesso forviante. Per questo è sempre più importante ricordarsi che lo schermo freddo e piatto di un telefono non sarà mai in grado di riprodurre appieno le caratteristiche di una persona e le sue emozioni. Per questo è il telefono non sarà mai in grado di riprodurre appieno le caratteristiche di un'immagine riflessa e di un'immagine riflessa.